Terza sconfitta in quattro partite in questo avvio di 2020 per il Gozzano, la seconda della gestione Antonio Soda. A Gorgonzola la Gianna sconfigge 1-0 grazie a Manconi inovaresi. Lo scontro diretto è mal interpretato dal Gozzano, che nel primo tempo è impalpabile e nella ripresa non riesce minimamente a reagire. Ora la situazione di classifica è sempre più preoccupante. Il Gozzano è rimasto fermo a quota 19 a causa della decima sconfitta in questo campionato. La rediviva Gianna invece è salita a quota 17, staccando l'Olbia, rimasto solitario in fondo alla graduatoria. Al ventottesimo l'intervento di Fiori all'esordio stagionale è ben più complicato. Il fendente di Perna è insidioso, ma l'estremo difensore risponde presente. Al trentunesimo ancora Gianna con Manconi, bravo a sfondare, ma il suo diagonale viene rimpallato in angolo. Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Pirola, respinto da un attento Fiori. Il portiere rosso-blu è nuovamente agile, a otto minuti dal termine della prima frazione, a sventare un'altra mischia nella propria area di rigore. Il secondo tempo è bloccato. Le occasioni latitano, ma al ventiduesimo, un cross dalla tre quarti, viene trasformato in oro da Manconi. Controllo è destro sotto la traversa per il gol da tre punti della Gianna. La reazione del Gozzano è assente. È la Gianna ad andare più vicino al raddoppio che ai novaresi al pareggio. Mentre Dallabona, direttamente d'angolo, rischia di impensierire Fiori al trentaquattresimo. A proposito di corner, la Gianna ne ha battuti sedici contro i soli tre del Gozzano. È vero che gli unici numeri che contano nel calcio sono quelli che fissano il punteggio, ma il dato dei tiri dalla bandierina nel match del Città di Gorgonzola è l'ennesima conferma della serata disastrosa del nuovo Gozzano di Soda. In definitiva, urge un cambio di passo, prima che sia troppo tardi. Grazie.